Il tragico epilogo della nota trasmissione televisiva Chi l'ha visto? Si è consumato sabato 17 febbraio, con l'annuncio della scoperta della vitalessenza di Antonella di Massa, dopo una lunga attesa e ricerca. Antonella, la cui scomparsa ha tenuto col fiato sospeso gli spettatori sin dall'inizio, è stata ritrovata senza vita in un luogo vicino al parcheggio di Serrafontana, dove era stata trovata la sua auto. Le indagini condotte dagli inviati del programma, Francesco Paolo del Re e Marco Monti, hanno portato al ritrovamento del corpo, mentre seguivano il percorso che Antonella avrebbe potuto compiere il giorno della sua scomparsa. La scoperta è stata immediatamente segnalata alle autorità competenti e ai familiari della vittima. Le cause del decesso al momento restano oscure, e sono al centro delle indagini dei carabinieri, che dovranno fare chiarezza sulla dinamica degli eventi. Questo triste epilogo pone fine alle speranze di ritrovare Antonella viva e lascia aperte molte domande riguardo alle circostanze della sua morte. Grazie per la visione!